Sì, è importantissimo essere qua e vedere tutte queste persone che comunque si stringono nell'abbraccio ai familiari di Francesca perché siamo qui prima di tutto per ricordare Francesca Manfè e per ricordare a tutti che la strada è un posto pericoloso e dobbiamo fare tutto il possibile per renderci soprattutto visibili e per farci rispettare. Il messaggio che voglio dare questa sera è quello di meglio dare fastidio sulla strada ed essere visti piuttosto che effettivamente poi affrontare un incidente come quello che è successo a me o quello che purtroppo è successo anche a Francesca. Oltre a questo siamo qua per uno scopo importante che è quello di aiutare l'associazione Marina Romoli Onlus che aiuta le persone con lesione spinale e la ricerca per una cura di lesione spinale e l'AIL di Treviso, quindi per l'associazione italiana per la ricerca sui linfomi, quindi insomma due cause importantissime.